Il giorno, un poema satirico in Endecasilla Bisciolti che racconta la giornata tipica di un giovane nobile, il Giovin Signore. Il giorno è diviso in quattro parti, mattino, mezzogiorno, poi intitolato meriggio, vespro e notte. Se ricordate, raccontando la vita dell'autore, abbiamo visto che una delle esperienze più importanti di Parini fu proprio quella di precettore in casa a Serbelloni. Sette anni che Parini dedicò proprio all'educazione del giovane rampollo della nobile famiglia. Parini poté così osservare in prima persona quel mondo aristocratico.